I libri sono... Collezione 2013 Zaini grandi e-spac da euro 44,90 Disponibili tutti i colori Zaini per il tuo tempo libero Sconti fino al 50% Per la preparazione e gli esami di ammissione a tutte le facoltà Libri alfa test e daily test Sconti fino al 15% Offerta un libro per l'estate a partire da un euro Geronimo Stilton e Peppa Pig Ti aspettano con un vasto assortimento di libri e giochi Grazie